ecco arvey è la locomotiva gru con il numero 27 arvey è un tipo allegro e ha un grande cuore ha una voce tonante e una forma inusuale un giorno arvey mentre trasportava un carico prese troppa velocità e perse il controllo tutta la sua merce finì sopra alle rotaie ma grazie al suo braccio gru fornito di gancio arvey fu in grado di raccogliere il carico e di consegnarlo in tempo così ha dimostrato di avere una doppia capacità per questo è una locomotiva davvero utile